andrà tutto bene in questi giorni difficili in cui si sta capendo come quando torneremo alla normalità ce lo dite quotidianamente voi bambine e bambini con i vostri lavori le vostre poesie i vostri pensieri i vostri bei disegni come andrea e nicole di casoni alessia di tezze sul brenta siria sette anni di fellette e ancora vittoria e questa coppia di fratellini che ci regalano pure due splendidi sorrisi contagiosi ce lo dice nicole di marchesane e lo ribadiscono matteo e il fratello nicola con la cuginetta ilaria daniele con questo bello striscione sabrina e pietro di rosà noi mi di colceresa che aggiunge non vi preoccupate mentre camilla indirizza il disegno che ci ha inviato ai nonni di asiago e dice noi ti sconfiggeremo brutto coronavirus certo che sarà sconfitto se tutti ci impegniamo come state facendo voi amici e amiche a rispettare tutte le direttive supereremo anche questo momento continuate a mandarci i vostri messaggi di speranza e ci lasciamo con greta di casoni che sull'escavatore di papà vuole fare una buca super profonda per sotterrare il coronavirus una volta per tutte andrà tutto bene ciao a tutti